Limitare gli spostamenti inutili fra porto e retroporto, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento. Ridurre i tempi di attesa per l'imbarco. Semplificare le procedure burocratiche. Rendere i porti regionali più attraenti per gli operatori logistici nazionali e internazionali. Questi sono i principali obiettivi che l'assessorato ai trasporti della regione Friuli-Venezia-Giulia ha voluto raggiungere con il progetto SEC, Safe and Efficient Cargo, soluzione di Information and Communication Technology realizzata da Inxiel S.P.A. SEC si occupa di due aspetti della vita portuale. La tracciabilità dei mezzi su gomma che imbarcano o sbarcano nel porto di Trieste. Lo scambio telematico dei documenti tra gli operatori portuali e la capitaneria di porto. SEC oggi consente di sapere in tempo reale quali sono i mezzi che transitano attraverso l'uscita autostradale dell'Isert, il terminal portuale RORO per la Turchia, l'autoporto di Fernetti. Al mezzo viene applicato un tag RFID passivo che viene letto da apposite antenne installate ai barchi di transito. Il dato rilevato viene immediatamente trasmesso tramite un modem GPRS ad un server centrale, dal quale viene subito elaborato e reso disponibile in Internet. Gli utenti autorizzati, semplicemente collegandosi ad Internet, vengono così informati in tempo reale degli spostamenti dei loro mezzi. Possono inoltre prenotare l'imbarco direttamente sul web e dare indicazioni tempestive ai conducenti sui luoghi dove sostare in attesa dell'imbarco stesso. Si riducono così i tragitti inutili fra porto e retroporto e si possono preparare per tempo i documenti per far salire a bordo il mezzo senza obbligarlo a lunga attese. Il sistema si presenta molto flessibile e riutilizzabile, potendo aggiungere facilmente nuovi varchi di rilevamento. Con la gestione telematica delle pratiche nave si è realizzato un sistema web attraverso il quale gli agenti marittimi possono creare e inviare i documenti necessari alla capitaneria di porto. Questa li può visionare e stampare e autorizzare operando direttamente in Internet. SEC prevede inoltre la gestione del bollo virtuale e la memorizzazione centralizzata dei documenti nella server farm di Insiel. SEC è solo il primo passo di un progetto di più ampio respiro, la realizzazione del sistema informativo logistico integrato regionale. Una piattaforma fortemente voluta dalla regione Friuli Venezia Giulia che Insiel sta progettando in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste e in sinergia con i principali attori della logistica regionale. Un'importante sfida per Insiel, proiettata a divenire un'azienda di riferimento nel settore ICT per la logistica.